Il nostro telegiornale 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 Angelo Norato Avrebbe infatti confidato All'avvocato tributarista Di avere problemi economici Dovuti a debiti E a crediti Che non riusciva a incassare E' uno degli spunti di indagini Che gli investigatori Stanno verificando Ma un altro elemento fondamentale E' che nessun segno di violenza Sarebbe stato trovato Sul cadavere dell'uomo Le analisi Sembrerebbero quindi Propendere per la tesi del suicidio Gli investigatori Hanno anche ascoltato L'eurodeputata Francesca Donato A moglie della vittima E la figlia Carolina Le due donne Hanno scoperto Il cadavere dell'uomo Raggiungendo l'auto Accostata alla marciapiede Attraverso il segnale GPS del cellulare Alcuni aggiornamenti Arrivano dalle telecamere Di sorveglianza Il SUV di Angelo Onorato Era parcheggiato infatti In un punto cieco Tra due telecamere Di sorveglianza Dalle registrazioni Delle immagini Evidente che nessun veicolo Si è fermato Nei pressi del Range Rover Perché tutte le macchine Filmate Sono passate In un tempo incompatibile Con una sosta Ne è stato ripreso Alcun passante a piedi Le circostanze Ulteriormente Avvalorano La tesi del suicidio Tranne ipotizzare Che il killer Si sia allontanato Arrampicandosi Sul muro Alto almeno Due metri Che delimita L'autostrada Per evitare Di essere ripreso Architetto Con la passione Per la politica Marito Dell'eurodeputata Francesca Donato E padre di due figli Ecco chi era Angelo Onorato Il ritratto Di Luca Ciliberti Sono tutti increduli Chi conosceva Angelo Onorato Parla di lui Come una persona solare Un amico Uno che era felice E lo dimostrava Lavoro Famiglia Eventi Feste e politica Una morte misteriosa Che sconvolge La Palermo Bene Fino alla sera Prima del macabro Ritrovamento Del suo corpo in auto Onorato Era stato visto A una festa Al tennis club Di Viale del Fante Chi ha provato A ricostruire Le ultime ore Dei suoi spostamenti Racconta Che l'imprenditore Era uscito Di casa Di mattina Come sempre Di buon umore Era passato Dal cantiere di famiglia Facendo battute Con i dipendenti E trovato morto Strangolato Alle tre del pomeriggio Dentro la sua auto Sulla parallela Dell'autostrada Per l'aeroporto Onorato 54 anni Era originario Proprio di Palermo Dove aveva vissuto E studiato Figlio di imprenditori Era un architetto Titolare di un negozio Di arredamento Per interni Casa Arredamenti Per la vita Che aveva di recente Ampliato e rinnovato Nella sede Di Viale Strasburgo Dal 1999 Era sposato Con Francesca Donato Nata ad Ancona E trasferitasi Per amore a Palermo Dove il 24 aprile La coppia Ha festeggiato Le nozze d'argento E dove sono nati I due figli Oggi ventenni Salvatore e Carolina Proprio l'ha donato Nel 2019 È stata eletta A Strasburgo Con la Lega Per poi prenderne Le distanze Due anni dopo E avviare Un suo progetto politico Con il quale ha ottenuto Il 3% Alle ultime elezioni comunali Nel 2022 Invece Angelo Onorato Si era candidato Con la democrazia cristiana Di Totò Guffaro Alle regionali Ottenendo 846 voti Che non gli sono bastati Per entrare a Lars Da inizio 2023 Anche la moglie È entrata nella DC Diventandone Vicepresidente nazionale E commissario per la Sardegna Chi li conosceva Parla di loro Come una famiglia Felice È bella E ancora notizie di cronaca Da Palermo Una donna di 90 anni È stata uccisa Con un colpo alla testa Nella sua abitazione A Borgetto Siamo appunto In provincia di Palermo In una villetta In periferia La donna Abitava con il figlio Di 60 anni Le indagini Sono condotte Dai carabinieri Di Partinico Restano ancora Aperte Tutte le ipotesi Stai interrogato Domani nel carcere Di Agrigento Daniele Alba Il meccanico Di Cianciana Che ha coltellato Offerendoli La moglie E i due figli La donna Che sta per essere dimessa Voleva separarsi Davide Sardo Domani mattina Nel carcere Di Lorenzo Ad Agrigento Alle 8.30 I magistrati Della procura Di Sciacca Interrogeranno Daniele Alba Il meccanico Di Cianciana Che giovedì scorso Ha coltellato La moglie E i due figli Qualora Non si alvalga Come il primo interrogatorio Della facoltà Di non rispondere Alba Sarà ascoltato Dalla giudice Per le indagini Preliminari Del tribunale Saccenze Antonino Cucinella E dal sostituto Brunella Fava Delegata Dalla procuratore Roberta Buzzolani E al fianco di Alba Sederanno gli avvocati Luca Burge E Maurizio Gaudio Nel frattempo Sono ancora in miglioramento Le condizioni cliniche Del figlio Cristian Sette anni Operato al civico Di Palermo Dove gli sono stati Estratti Dei faramenti Della punta Del coltello Utilizzato dal padre E poi trasferito All'ospedale Dei bambini di Cristina Dove ricoverata In terapia intensiva La sorella Di tre anni Sara Ancora sedata Lei non ha subito Interventi chirurgici Ma solo tanti Punti di sutura Per le gravi E profonde ferite Meno grave E la madre Già operata a Ribera L'ospedale fratelli Parla Piano E prossima Ad essere dimessa Lei avrebbe voluto Separarsi dal marito E rientrare Con i suoi figli In Polonia Il suo paese d'origine Ciò ha scatenato Contrasti dissidi Nella coppia Fino all'ultima lite Sfociata nel sangue A Catania Altro chiuso E in fase di ristrutturazione La polizia ha eseguito Tre provvedimenti cautelari Si tratta di Alessandro Leone 42 anni Antonino Russo 40 anni E di un 39enne Accusati A vario titolo E con differenti profili Di responsabilità Di incendio doloso Fabbricazione Detenzione Porto in luogo pubblico Aperto al pubblico Di congegni micidiali Aggravati E favoreggiamento personale Il provvedimento Eseguito dalla squadra mobile E scaturito Dalle indagini Sulle due persone Rimaste gravemente ferite A seguito dell'incendio Avvenuto all'alba Del 2 aprile scorso Nel novembre del 2023 Lo stesso esercizio commerciale Era stato interessato Da un altro incendio Sviluppatosi Per ragioni Allora rimaste non chiarite L'acquisizione Dei filmati Dei sistemi Di videosorveglianza Della zona E le testimonianze Delle persone presenti Al momento dell'esplosione Hanno definito Il quadro indiziario Leone avrebbe acquistato La benzina Poi Si sarebbe incontrato Con Russo Ed insieme Avrebbero utilizzato Alcune bottigliette Molotov Determinando l'esplosione Che ha danneggiato Il locale L'edificio Ferendo gli stessi autori Del raid incendiario Sull'auto di Leone Sarebbero stati trovati Due imbuti Un rotolone di carta Guanti lattici Lo scontrino Del distributore Di carburanti Ed un detergente Per tessuti Una terza persona Ausiliario Alle dipendenze Di una ditta Incaricata Di servizi Di pulizia Dell'ospedale E indagato invece Per favoreggiamento Avendo avvisato Leone Della presenza Di microspie All'interno del reparto Di degenza Scoperta E sequestrata Una maxidiscarica A cielo aperto A due passi Dall'aeroporto Di Catania Le immagini Sono eloquenti Vasche in ethernet Mobili Fatti a pezzi Abbandonati Migliaia di scatole Che inizialmente Contenevano Verosimilmente Materiale Per l'edilizia E poi Sacchi in cemento Materiale di risulta E l'immancabile Spazzatura Gettata lì Da chi si è sentito Autorizzato Perché di fronte Si è trovato Una vera e propria Discarica A cielo aperto Stamattina La polizia commerciale Del comune di Catania Guidata dal commissario Filippo Sigli È intervenuta In via San Giuseppe Larena Nella zona sud Della città Dopo diverse Signalazioni Di cittadini Estenuati Che da tempo Chiedono L'utilizzo Delle telecamere In tutta la zona Contro gli zozzoni L'aria in questione È stata sottoposta A sequestro Si trova a pochi passi Dall'aeroporto Fontana Rossa Sulla stessa strada Insistono numerosi Parcheggi E autonoleggi Ad uso Di migliaia di viaggiatori Che ogni giorno Transitano da quelle parti Turisti compresi Non c'è che dire Un'altra bella Ed ed edificante Cartolina di Catania E dei suoi abitanti Dai terreni agricoli Alle città La carenza idrica Si avverte sempre di più In Sicilia Martedì a Palermo La manifestazione di Coldiretti Mentre Schifani Annuncia aiuti immediati Francesco Alloi Martedì prossimo Si torna in piazza Qualche giorno di pioggia Infatti non ha risolto La siccità in Sicilia La più grave Degli ultimi 50 anni Secondo Schifani Dal governatore La dichiarazione Dello stato di emergenza Ma per agricoltori E allevatori Non basta Anche per questo Si incontreranno a Palermo Con il presidio A Palazzo d'Orleans Faranno sentire La loro voce Da Coldiretti La critica Alla scelta Del presidente Della regione Di fare arrivare Il fieno agli allevatori Attraverso le organizzazioni Di categoria Così Dicono Non si possono sfamare Subito gli animali Intanto Schifani Ha già dato mandato Ai suoi uffici Per sbloccare Immediatamente I 10 milioni Di euro Di aiuti Ma la carenza idrica Arriva fino ai rubinetti Di casa Nell'Agrigentino E nel Nisseno La situazione più critica E poi C'è chi forse Ha trovato Un'altra soluzione L'idea Arriva dal deputato Ars di Fratelli d'Italia Catania Che propone La stimolazione Artificiale Delle piogge Ma i campi Restano bruciati Dalla siccità E l'estate Deve ancora arrivare Ci fermiamo C'è una pausa Per la pubblicità Torniamo subito dopo Nel parco archeologico Di Selinunte Siamo nella terra Di Matteo Messina Denaro E andate in scena La maratona musicale E non solo Il ricordo Delle vittime di mafia Laura Spanò Ancora una volta Per questa seconda edizione Di Annome Loro Al parco archeologico Di Selinunte Non c'è stata Solo la musica Ma anche le voci Dei familiari Delle vittime di mafia Una seconda edizione Che è voluto Ribadire con forza Attraverso la vitalità Della musica E la bellezza Di un luogo Dall'immenso patrimonio Archeologico L'esigenza Di tenere alta La guardia Rispetto al fenomeno Mafioso E mantenere vivo Il ricordo Delle vittime di mafia Un evento Che vuole anche Valorizzare L'estrema ricchezza Artistico-culturale Di una terra Per troppo tempo Identificata Esclusivamente Con le attività Del crimine organizzato L'iniziativa è nata Da un'idea di Sciade e Mangiaracina All'indomani Dall'arresto Di Matteo Messina Denaro Sul palco A Selinunte Si sono esibiti Anche Antonio Montinaro Figlio dell'agente Morto Nella strage Di Capace Rosa Maria Avento Figlio di Vincenzo Ucciso a Castelvetrano Ed Emilia Catalano Nipote di Agostino L'agente ucciso Nella strage Di Via D'Amelio Il lungo pomeriggio Di musica E voci Per le vittime Di mafia Ha avuto inizio Alle 15 Lunghissima La lista Degli artisti Da Levante Alla rappresentante Di lista A Malika Ianne A Daniele Silvestri Paolo Fresu Arisa Sul palco Anche Donatella Finocchiaro Luigi Locascio Paolo Briguglia E alcuni familiari Di vittime Di mafia Presente anche Giuseppe Cimarosa Figlio del collaboratore Di giustizia Lorenzo E nipote Di Matteo Messina De Naro Mario Incudine Mario Incudine Anna Vitale Antonio Vasta Ieri in concerto Nella chiesa Di Cristo Re A Catania Con canti sacri Melodie religiose Popolari Un viaggio Musicale Teatrale Nella tradizione Alla scoperta Di luoghi E radici Nascoste Della Sicilia L'evento E' stato organizzato Dal gruppo culturale Gaetano Zito Che ha accolto L'invito di Papa Francesco Per una pastorale Del rumore Ancora con la musica Carmen Consoli Conquista a New York Il tour della cantantessa Tra l'America E l'Europa Si concluderà poi In Sicilia Simona Mazzone La Sicilia Con i suoi paesaggi Le storie I personaggi E' sbarcata Al Poisson Rouge Di New York Grazie a Carmen Consoli E al suo tour Terra che non senti Che è arrivato Oltreoceano Per la sua prima tappa Con brani Della tradizione E canzoni Che omaggiano I conterranei Franco Battiato Rosa Balisteri Ignazio Buttitta La cantantessa catanese Dopo alcune date In giro per l'America Tra San Francisco Los Angeles Miami E una tappa in Canada Tornerà in Europa In Spagna In Italia Con un evento a Pompei E poi in Sicilia Nella sua amata terra L'8 agosto a Milazzo Il 9 a finale di Pollina Nel Palermitano Il 10 agosto A Marina di Monica E l'11 nell'area archeologica di Morgantina E adesso ci fermiamo ancora C'è una pausa E poi torniamo Per raccontarvi Gli scenari Dopo l'eliminazione Dai rispettivi playoff Delle due siciliane Tra poco Siamo al calcio Il Catania Ferma la propria corsa Nei playoff di Serie C Si impone l'Avellino Che ribalta il match Dopo il vantaggio Rosso-azzurro Iniziale Segnato dal solito Cianci Marco Carli Il sogno Come l'aveva chiamato Zeoli È finito Con tanto rammarico La speranza di giocarsi Fino in fondo La promozione in Serie B Nonostante una stagione pesante Seppur impreziosita Dalla Coppa Italia Si spegne per il Catania Al minuto numero 83 Quando da ausilio Manda in rete La sassata del 2-1 Che riconsegna La qualificazione All'Avellino E la strappa I ross-azzurri Che erano andati Anche in vantaggio Alimentando le ambizioni Proprie dei tifosi Castellini e compagni Praticamente perfetti Per un tempo Il primo Li ringrazia Zeoli alla fine Poi si commuove Congedandosi dal gruppo Io adesso sono orgoglioso Perché ho scelto Da che parte stare Questi colori ormai Ce li ho dentro E niente Buonasera da tutti Zeoli non snatura la squadra Che aveva fatto bene Fin dalla partita Col Benevento Semplicemente inserisce Endoi al posto Del febbricitante Indisponibile Zammarini Proprio il numero 6 Dei ross-azzurri Trova il cross vincente Nella fase iniziale Della prima frazione Cianci Atticipa difese Portiere Fa 1-0 In quel momento Il Catania è avanti Di due gol Nel doppio confronto Ma soprattutto Interpreta al meglio Tutti i primi 45 minuti Inbrigliando il tridente Irpino Formato da Gori Patierno e Sgarbi Nella ripresa però L'Avellino può inserire Forze fresche Il Catania invece Quello che ha in casa Fra alcuni giocatori Non al meglio Fisicamente e atleticamente I pericoli arrivano Dalle fasce Si concretizzano subito Furlan smanaccia Un cross deviato La palla arriva Liotti Che di destro Manda l'incrocio 1-1 Il Catania soffre Ma regge Fino all'83 Quando da ausilio Spegne il sogno In casa ross-azzurra Si deve adesso Guardare al futuro Cocente la delusione Per i tifosi del Catania Che fino a sette minuti Dalla fine Speravano nel passaggio In semifinale Poi la doccia gelata I loro umori Nel servizio Di Tonino De Mala Ci ho creduto Come ci hanno creduto tutti Prima l'illusione Poi la delusione E la consapevolezza Che Piazza Europa Non si tingerà Di nuovo Di rosso e azzurro Per i festeggiamenti Del Catania Si perché il Catania Ha lottato Fin quando ha avuto le forze Prima di arrendersi All'Avellino Che nel finale Ha effettuato Il sorpasso decisivo Il sogno promozione Degli Etnei Si è fermato Al minuto 83 Comprensibile L'amarezza dei tifosi Dovano fare il 2-0 Non è stato rapace Fare il 2-0 Nel secondo tempo I sette minuti Si potevano fare tantissimi Però penso che Già erano abbastanza stanchi Fortuna o calo fisico? Boh Può essere anche calo fisico Un amaro Un amaro Ci hanno lasciato Purtroppo E' andata così Che peccato Titolo azzeccato Il titolo è azzeccato Però l'Avellino È risultato Una squadra Più squadra Del Catania Sicuramente E poi Secondo me Hanno vinto Anche perché L'allenatore Ha avuto a disposizione Delle alternative Migliori Di quelle che aveva il Catania Si poteva fare di più O forse il Catania Si era spinto Oltre le proprie possibilità Il parere dei tifosi È più che una sentenza Anzi che è arrivato A quel punto Fortunato No? O no? Con quella squadretta Che aveva Smaltita La delusione È già tempo Di guardare avanti Il Catania Ha bisogno Di una squadra Almeno in Serie B Potrebbe essere Una base di partenza Questa? Certo Senz'altro Ci riparemo La prossima volta Nel prossimo anno Forza Catania Perché quello che contava È andare in Serie B Spero che l'anno prossimo Possiamo andare in Serie B E anche il Palermo Eliminato dai playoff Pensa al nuovo allenatore Ad altri cambi Nella dirigenza Marco Gullà Rivoluzione Palermo Tanti gli aspetti Da rivedere Dopo l'eliminazione Dei playoff A partire dall'allenatore Che non sembra Aver dato Le garanzie richieste Sarebbe infatti Paolo Zanetti Uno dei papabili Per ereditare Il posto di Mignani Dopo la fine Di una stagione Tarata verso l'alto Ma conclusa malamente Zanetti Ex Empoli Che ha condotto Il Venezia Alla promozione Sarebbe in pole position Rimane una pista valida Anche quella Che conduce All'ex Sassuolo Dionisi Ci sarebbe anche Il nome di Fabio Grosso Ma più defilato A causa del no Ricevuto in estate Il nome del neotecnico Passerà comunque Dal direttore sportivo Che con molta probabilità Non sarà Leandro Rinaudo Il DS in scadenza Il 30 giugno E i discorsi per il rinnovo Sono stati interrotti Da tempo E poi già Con la valigia in mano Anche Capitan Matteo Brunori Contestato anche Da alcuni tifosi Dopo delle dichiarazioni In cui sosteneva Che Palermo È una piazza Esigente E difficile Insomma Campieri aperti Il Palermo Dovrà cambiare abito Se vorrà Ovviamente Trovare la direzione giusta Nella prossima stagione Ed è tutto per questa edizione L'informazione torna alle 19 Grazie per averci seguito E a tutti Una buona domenica Grazie a tutti Grazie a tutti